Buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica Domanda Risponde. Oggi tratteremo un argomento riguardante le aspettative, i permessi e l'anno sabbatico per i docenti. Sono arrivate diverse domande rispetto a questi argomenti, questi temi. La prima domanda a cui daremo risposta è la seguente. Sono un docente di ruolo della scuola secondaria. Posso chiedere aspettativa per svolgere un anno sabbatico? Quali penalità avrò a livello economico e giuridico? Il docente di ruolo che abbia superato l'anno di prova, dunque è importante ricordare che deve essere già svolto l'anno di prova e superato l'anno di prova, ha diritto all'aspettativa per svolgere un anno sabbatico. La legge 448 del 23 dicembre 1998 all'articolo 26,14 dispone che i docenti e i dirigenti scolastici che hanno superato il periodo di prova possono soffrire di un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di un anno scolastico ogni dieci anni. Sottolineo che il decennio non deve essere concluso. La si può chiedere anche durante il percorso del primo decennio, dunque prima della screnza dei dieci anni. Per i detti periodi i docenti e i dirigenti possono provvedere a loro spesa la copertura degli doneri previdenziali, per cui a livello economico il permesso non verrà retribuito, mentre a livello giuridico l'anno non sarà calcolato per la progressione della carriera. E inoltre non verrà calcolato il punteggio dell'anno di servizio e della continuità nella mobilità e nelle gradatori interne di istituto. Seconda domanda. Sono un docente precario con supplenza annuale. Convivo in casa con mia madre che è persona gravemente disabile. Ho diritto a fruire il congetto straordinario della legge 104 per assistere mia madre? Allora, per come è disposto dall'articolo 42,5 del decreto legislativo 151 del 2001, potrà usufruire dei periodi di congelio straordinario della legge 104 uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il convivente, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte di unione civile convivente di entrambi i genitori del disabile siano o mancanti o deceduti o affetti da patologie invalidanti. Quindi, terza e ultima domanda. Sono stato chiamato per una supplenza come personale ATA, come amministrativo, ma dovrò fare il concorso ordinario per l'insegnamento. Vorrei sapere se ho diritto al permesso per i giorni che mi servono per fare il concorso a cattedra. Si permette che viene chiamato la persona che vuole fare il concorso a cattedra come personale precario, dunque per una supplenza, dalla terza fascia personale ATA. Al personale docente ed educativo ed ATA, assunto a tempo determinato, sono concessi permessi non retribuiti per la partecipazione a concorsi o esami nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, i ricompresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio di andata e di ritorno per la sede del concorso. Sono inoltre attribuiti permessi non retribuiti fino a un massimo di sei giorni per i motivi dell'articolo 15,2 del contratto, cioè quelli che venivano definiti come permessi familiari o personali, invece che fruiti come ferie, fruiti come permessi, però in questo caso non retribuiti per il semplice fatto che il docente è docente precario. Speriamo che queste domande abbiano suscitato il vostro interesse e che le risposte siano state, diciamo, esaudienti. Vi invitiamo a seguire la nostra rubrica che andrà in onda ogni mercoledì. Arrivederci a tutti. Grazie a tutti.